Quando ti senti bene nella tua vita? Quando sei felice e stai bene, non è così? Anche se sei malato, se sei felice, ti senti comunque bene, non è vero? Quindi, essenzialmente, ciò che chiami il tuo benessere è un certo livello di piacevolezza dentro di te. È questo tutto ciò che cerchi nella tua vita? Vuoi che dentro di te sia piacevole? Vuoi che fuori di te sia piacevole? Perché se vuoi creare piacevolezza intorno a te, hai bisogno della cooperazione di molte persone. Magari ci stai lavorando, ma qualcuno può metterti i bastoni tra le ruote in qualunque momento, vero? Ma se questo non si sente piacevole, in questo momento, che è il problema più serio della vita, perché tutto è in funzione della ricerca del tuo benessere, e il tuo benessere è semplicemente stare qui seduto ed essere piacevole dentro di te. Non è così? Ti senti bene quando sei piacevole? Se quello che vuoi non sta accadendo nel mondo intorno a te, ci sono mille ragioni, probabilmente. Ma se quello che vuoi non sta accadendo con questo qui, c'è solo una ragione, no? Nessun altro ingrediente coinvolto qui, solo tu. Grazie a tutti.